Volevo essere presentato da Giovanna. Mauro, prego, Enzo. Grazie! Fate un applauso! Buonasera, buonasera, benvenuti, io sei Giovanna di Apason, la scuola, città della notte, ragazzi. È sempre un'emozione incredibile stare su questo palcoscenico. Poi quando abbiamo il piacere di avere una sala gremita di persone, persone di Augusta, è veramente doppio applauso. Quindi facciamolo e riscaldiamo questa bellissima sala. Io questa sera volevo cominciare raccontando la storia della mia vita. Senti, vedi che posso cominciare volentieri. Vediamo raccontare la storia dei nostri ragazzi. Che mi sembra anche giusto, no, ma è una battuta. Un applauso ai ragazzi, allora cominciamo immediatamente. Infatti, sul nostro palcoscenico, dobbiamo fare coppia fissa sul palcoscenico, sul nostro palcoscenico, sul palcoscenico di Città della Notte, arriva il primo momento dedicato alla musica. Del resto, questa sarà una grande serata interamente dedicata alla musica. E questi sono i ragazzi che aprono, fanno un po' anche da sigla e da inizio spettacolo, che sono appunto, pensate, il fiore all'occhiello dell'istituto scolastico comprensivo, credo sia il terzo, Salvatore Totoro di Augusta. Dal 1992, un applauso al terzo istituto comprensivo Salvatore Totoro di Augusta. Pensate, i ragazzi che questa sera si esibiranno sul nostro palcoscenico sono plurimedagliati e quindi sono stati i primi assoluti in diverse occasioni, quindi bravi complimenti piccoli maestri, scusate le spalle. Allora, diamo immediatamente via al nostro spettacolo, quindi si esibiranno in questa parte del concerto, all'orchestra appunto della Salvatore Totoro, così l'abbiamo voluta chiamare, con alcuni brani, vi dico i titoli e poi li ascolteremo insieme. Quindi, La Donna Immobile, Il Carnevale di Venezia, Blue Moon, Mission Impossible, La Pantera Rosa e Libertango. Ragazzi, i ragazzi dell'istituto comprensivo Salvatore Totoro, diretti da Jose Tringali. A voi e buona serata! Salvatore Totoro, diretti da Jose Tringali. 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 Grazie. 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 Grazie.